Raga mi sento malissimo, cioè che non lo sto a fare secondo voi? Raga non ci credo! Allora ragazzi il video di oggi non è solo difficile, richiede anche una certa dose di fortuna e voi lo sapete che quando registro questi video la fortuna è proprio l'ultima cosa che ho. Ma ci proviamo lo stesso! Prima di continuare il video probabilmente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYTUTTOGRANDE, tutto attaccato ai negozi oggetti di Fortnite. Mi raccomando ragazzuna è davvero fondamentale per supportarmi quindi controllate sempre che sul supporto a un creatore ci sia scritto GGYTUTTOGRANDE, tutto attaccato. Anche perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo, grazie velo di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciando un bel mi piace per supportare questa serie di challenge e oggi dobbiamo giocare con solo e soltanto le armi esotiche. E quindi dobbiamo andare a prendere immediatamente le chiavi, che fortunatamente c'è un NPC che le vende, ma poi dobbiamo trovarle, queste armi esotiche, nelle holo cesta. Insomma è un po' particolare, tra poco vi spiego meglio. Io vi invito ovviamente a recuperarvi tutti i video di questi giorni perché sto caricando due, tre video al giorno tutti i giorni. Quindi qualcosa vi siete per forza persi, quindi recuperatevi anche perché sta stagione mi sta piacendo un botto e sto trattando tutto quanto a 360 gradi. E quindi iscrivetevi anche al canale per non perdervi tutti i prossimi video. E adesso vediamo un po' se riusciamo nel nostro grande intento. Allora l'obiettivo è quello di andare tipo qui, all'incirca, ora vedo se ho azzeccato effettivamente il punto esatto, e trovare un NPC che vende delle chiavi. Ha cinque chiavi come scorta. A noi ce ne bastano tre anche perché comunque è il massimo delle chiavi che possiamo prendere. Queste armi esotiche costano due, quindi in realtà l'obiettivo sarebbe quello di prenderne due, andare a prendere un'arma esotica, tornare da lui, comprare le restanti chiavi e poi andare a prendere qualche altra arma esotica. Però è qualcosa di difficilissimo. Perché sì ragazzi, sono rimaste, o meglio hanno rimesso, dopo che le avevano tolte per il finale di stagione scorso, quelle armi esotiche dei furfanti, tra virgolette, dei rapinatori. Quelle armi che hanno anche un'abilità un po' particolare, ma io non ce posso credere. Ma veramente c'è gente che sta atterrando qui? Cioè, no regà c'è gente che ha atterrato qua. A me mi viene da piangere. No scusate un attimo, cioè non posso farla sta challenge, se no. Questo ha atterrato pure la mitraglietta. Vabbè, ma muori? Che dici? Eh? Andiamo giù. Regà lo so che devo usare solo le mitragliette e solo le armi esotiche, ma che devo fa' se succede una cosa del genere? Cioè con uno start del genere dove mezza lobby mi viene in un punto dove non c'è letteralmente nulla. Ma io che cosa devo fare? Cioè questi mo' mesi saranno comprati pure le chiavi. Cioè ma io impazzisco forte proprio. Ma dove sono andati mo' questi tra l'altro? Vabbè regà, non lo so. Comunque eccolo qui. Ci prendiamo due chiavi per adesso, così da non spendere troppi lingotti perché sennò diventa un problema. E adesso niente, dobbiamo andare nelle varie zone delle... delle holochest e sperare di trovare una delle armi esotiche di cui vi sto parlando in questo video. Regà qua c'è qualcuno però non l'ho visto. Mannaggia Mannaggia la miseria Mi ha devastato signori Mi ha veramente devastato Tra l'altro non ho neanche visto da dove è uscito fuori Cioè sta partita posso dire che è un po' particolare e ambigua Particolare e ambigua Cioè tra l'altro io sto lutando le armi, regà, ma Cioè senza lutare le armi credo fosse impossibile Oddio attenzione Sì Subito Questo regà sto pump è clamoroso Questo è il pump che più hitta più diventa veloce a dittare e diventa qualcosa di clamoroso Vabbè no, io butto il resto, butto il resto Mi tengo giusto il barret, così, a caso, giusto il barret tanto per tenermi qualcosa da lontano No regà c'è qualcuno però, no c'è anche qualcun altro di qua Ma regà io non sto capendo, ma perché c'è tutta sta gente qui intorno? Non capisco perché ci sia tutta sta gente qui intorno Ah ok mi pusha Forse era meglio se mi facevo gli affari miei Cioè questo l'avrei anche ucciso Ma ovviamente deve arrivare il terzo incomodo che ci spara giustamente A questo non gli dovevo sparare Vabbè prima l'ho voluta trollare io ragazzi Perché se non avessi sparato a quello lì col cecchino Che tra l'altro non potevo neanche tenere Ma io ho voluto comunque infrangere le regole Non sarei mai morto così Ma anche perché questo qui l'avrei mochillato Se non fosse arrivato il solito terzo incomodo maledetto Comunque riproviamoci Però io spero non ci venga nessuno regà Perché lì non c'è loot C'è solo quell'NPC Che tra l'altro ti vende solo le chiavi Non ha armi Lo devi sfidare per prendere le sue armi E se non hai nulla come fai a sfidarlo Ci sono le catane Quindi giusto magari per le catane qualcuno può andare lì Ma come avete visto io l'ho presa tranquillamente Perché le avevano lasciate là E poi non c'è nient'altro Ma guarda la gente che ci atterra Ma perché? Perché c'è io quando vedo ste cose impazzisco No 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 regà io mi vado Cioè io mi devo riprendere le armi regà Cioè no mi riprendo le armi Cioè mi rifiuto di atterrare lì E cercare di picconare qualcuno Che è arrivato là Non sa neanche lui per quale motivo Ovviamente zero shield per noi Ma adesso andiamo a vedere che aria tira Ecco guardate Cioè tipo sto matto no? Ma che cosa c'è venuto a fare qui? Cioè vi giuro Non capisco Lui sta spaccando là No questo va pushato però Ce n'è un altro là Ma che cosa sto vedendo Ma che cosa sto vedendo Cioè questo mi sta pushando con la catana Cioè ma io No vabbè regà Ma sta gente secondo me non l'ha capito come funziona il gioco Non l'hanno capito Cioè è l'unica spiegazione che mi do E altrimenti non ne ho veramente idea Comunque dammi ste due chiavi Mi ha regalato uno shieldone Quindi io ti ringrazio Sei il mio migliore amico Mi metto qui dietro Provo a curarmi raga Che dobbiamo fare la stessa cosa Abbiamo fatto prima Però secondo me sta gente non c'ha un'idea regà Perché sennò non si spiega Cioè io capisco pure venire qui e prendersi la catana Ma prendi la catana e te ne vai No che mi pushi con la catana Quando vedi che io ho le armi Comunque questa volta io direi che me ne vado di qua Perché dall'altra parte sento spari Quindi vado verso queste holo chest qui No regà c'è qualcuno Io non ci credo Ok no però se n'è andato 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 Perfetto Allora Oddio Regà a me sti samurai così Sì mi fanno prendere un colpo Vi giuro questi seduti qui così Cioè non so se solo a me Però mi fanno prendere veramente gli infarti Oh mio dio raga Ci sta dicendo bene però eh Ci sta dicendo bene quest'oggi Allora prendiamocelo al volo Avrei preferito l'altro pump Quindi avrei preferito mille volte continuare La partita precedente Però devo dire che non ci possiamo lamentare Allora la pistolina raga me la prendo comunque Io torno a parlare con quell'NPC Mi prendo le altre chiavi che gli sono rimaste E continuiamo la nostra bellissima partita Comunque appunto tutte quelle armi Che sono uscite un mesetto fa Con quell'aggiornamento particolare Con i bunker non bunker Della scorsa stagione Appunto sono tornate tutte sotto forma Di armi nelle holo chest Appunto Cioè così Ed è una figata in realtà secondo me Cioè aggiungere delle armi vecchie Così magari anche presenti solo nelle holo chest Secondo me è una cosa figa Comunque ovviamente sono rimaste tutte le abilità Che avevano Quindi questo qui One shotta le strutture O comunque qualsiasi cosa che colpisca Il pump che avete visto prima Ogni volta che hitta diventa sempre più veloce a dittare Il P90 si ricarica correndo Insomma Quelle abilità che già avevano un tempo Ti prego dimmi che c'è una Sì sì vedo Vedo un'arma esotica Vedo un'arma esotica Però ti prego non un altro pump Per favore Uuuuh Perfetto Certo Avrei preferito il P90 Cioè avrei preferito proprio di gran lunga Il P90 Ma me lo faccio andare bene pure così Mi faccio andare bene anche questo Anche se non lo so usare purtroppo E adesso però dobbiamo cercare un'altra chiave Purtroppo le scorte di quell'NPC Sono finite Mi servirebbe un'altra chiave Per cercare magari il P90 O cercare l'altra mitraglietta Perché c'è anche la mitraglietta a doppio caricatore Questa qui che abbiamo Versione esotica Cioè guardate non sarebbe male Cioè apparentemente mi faccio un lutto assurdo Tra l'altro abbiamo trovato una cassaforte Io nel dubbio me la apro Dato che sto spendendo una marea di lingotti Vabbè comunque me la tolgo la mitraglietta Dai non baro Non baro Tranquilli Ho barato prima ed è finita male Quindi non baro di nuovo Ah qui sono spawnati i tre pesci Con una marea di chest Ah non sapevo scomparissero Ragazzi non avevo idea che Me la so persa sta cosa Niente però eh Non ci hanno dato le chiavi Non ci hanno dato le chiavi ragazzi Cioè io che luto le armi Posso lutare le migliori armi del mondo Ma se non trovo le chiavi è inutile Oh un'altra cassaforte ragazzi Cioè sto guadagnando Sto spendendo una marea di lingotti Ma con tutte le stesse cassaforti Vado in guadagno Oh no passi Passi raga Passi brutti passi Brutti passi Quindi io prendo al volo l'altezza E non ne voglio sapere Dove sei amico mio Dov'è che tu sei Eh mi segna i passi Mi segna i passi Cioè no no Li sento Questi li sentono Che me li segna Ah proviamo a spaccare Che magari tengo So Ok Qualcuno ha lasciato quella moto Da lì Da lì dentro Si sta curando Mamma mia ragazzi Devasto Però c'è ancora qualcuno qua sotto C'è ancora qualcuno qua sotto Facciamo un po' così Dato che lo possiamo fare Però non vorrei che adesso Ci faccia il giro Da qualche parte eh C'è anche un lama Tra l'altro lì Lo sento Lo sento Però raga io in tu per tu Faccio schifo Perché sto pump Uno contro uno Fa veramente schifo Per cui l'avrei preferito L'altro pump Questo Eccolo Ok regà Ok regà Ok regà No Mamma mia Come l'abbiamo preso Signori Ora però corriamo No Non ci credo L'headshot Il gigito da l'headshot È tornato Regà Saranno già Cinque sei volte Che muoio per colpa Degli headshot Del barrette Ma che bella partita Stava venendo fuori Scusate Poi ancora mi chiedete Perché odio I cecchini Che one shot Perché ti rovinano La partita così Senza che neanche tu Te ne accorga E prima l'ho trollata io E qua ci ha detto Una sfiga incredibile Io non ho veramente parole E meno male che prima Avevo detto che eravamo Stati pure fortunati Perché effettivamente Con le armi Non è così scontato Trovare subito Tutte queste esotiche Che stiamo trovando Però mannaggia la misere Ragazzi Dai Io l'odio proprio Il cecchino che one shotta Ragà È proprio un qualcosa Che non sopporto Niente regà Qualcuno che a terra qui Ci sta sempre Ma io mi chiedo Perché Ma io mi chiedo Il motivo C'è qualche missione Da fare lì Non lo so Meno male che qua Troviamo sempre Almeno una cesta Perché Cioè Se no veramente Io non so che fare Cioè Sti start Se io non venissi prima Qui a lutare Sarebbero tutte morti E poi scappano E poi scappano E poi scappano Con la spada E non si sa Che devono fare Vabbè Ecco no no Anzi Non ce l'ha fatta Neanche a scappare Quello Eh sì Vabbè Cioè Già gli stava Ricrescere il sovrascudo Va Vabbè Ok Non l'ho capito Ma almeno Spero se ne sia andato E non torni più Ok Una catana è rimasta Perché comunque Una catana per il movement Ci serve Ragazzi E ok Quindi Come al solito Ci prendiamo Due chiavi E andiamo E io direi di andare Nuovamente di qua Perché Dall'altra parte Mi è sembrato sempre Di sentire alcuni spari Ah Qua hanno lutato però Occhio eh Stiamo attenti Oh Perfetto E abbiamo ritrovato lui Però certo Le mitragliette Non me le vuole dare Vi giuro Le mitragliette sono Le armi che voglio di più In assoluto Sono quelle che Fino adesso Non mi ha mai dato Comunque Ho visto qua le medusine Io direi che Ok Le liscio Le liscio totalmente Perfetto Almeno ci fulliamo E andiamo verso le altre Le altre lo cesti Intendo Anche se prima ovviamente Dobbiamo tornare A comprare Le nostre care Amiche chiavi Comunque sono sicuro Che ci sono anche Le mitragliette Perché un paio di volte Mi è capitato Di beccare Le mie avversari Ok C'è qualcuno Che sta sparando Proprio lì Ma io me ne vado Di qua proprio E mi prendo il perco Dio Il tracannoniere Non sarebbe male Il tracannoniere Non sarebbe male Così ci togliamo La mitraglietta No il pump No Ci togliamo La mitraglietta E delle bolle scudo Dai così Non variamo Neanche questa volta No il P90 Non mi è mai capitato Di vederlo Neanche agli avversari Però dovrebbe esserci Ragazzi No ho sentito qualcuno Fare cose E qua c'è anche Questo pump Quindi direi Che è anche inutile Provare a prendercelo Non le spreco Due chiavi Per riprenderlo Ho sentito qualcuno Che ricaricava Ho sentito qualcuno Che ricaricava Un'arma raga E comunque Confermiamo che è lui Sì è lui Non ho visto male Quindi direi di cambiare Olochest Che comunque Qui in zona Fortunatamente sono tante Penso che lo abbiano Fatto apposta Proprio perché c'è l'NPC Che vende le chiavi No passi Eh passi 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 Sopra però eh Eh oh oh Questo si è preso Questo si è preso Una Un'arma esotica E dobbiamo stare attenti Raga eh Perché potrebbe avere Proprio le mitragliette O comunque qualche pump Stia Eh però qua raga Ci stanno le porte scorrevoli Questo 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 mi sente Oh mio dio C'ha questo C'ha questo Non ci credo C'ha no Il P90 L'avevo proprio L'avevo appena detto Il P90 Non l'ho mai visto a nessuno No c'aveva il combat Come pump Raga era il combat E c'aveva proprio No raga Che sfiga Proprio il P90 Quest'arma sarebbe stata Perfe Cioè questa partita Sarebbe stata perfetta Avremmo trovato il pump E il P90 Ho giocato troppo aggressivo Eh non dovevo salire così Perché era normale Che Mi avrebbe chillato Però andando Accovacciato così Speravo di fare qualcosa Invece niente Cioè più che altro Ormai dovevamo pusharlo Raga in qualche modo Dovevamo pusharlo Raga l'ultimo tentativo Perché tanto ormai Le abbiamo viste Rente di tutti i colori Eh Mi sarebbe piaciuto giusto Utilizzare una Delle due armi esotiche Ma tanto comunque Di gameplay Con queste armi esotiche Ne abbiamo fatti Pure troppi Durante la scorsa stagione Era giusto Per farvi vedere Che comunque Sono ottenibili In questo modo Tra l'altro appunto Dato che in questi giorni Vi sto dicendo Che ho caricato Una marea di video In un video di ieri Se tutto va come deve andare È uscito ieri Rispetto al video Che è questo qui Insomma delle armi esotiche Vi ho fatto vedere Anche come ottenere Il pump del tuono In partite normali Pubblica normali proprio Insomma ci sono parecchie cose Interessanti in questa stagione Anche se quella del tuono Non so quanto sia voluta Come cosa Allora proviamo però Per una volta Ad atterrare subito qui Però devo prendere Immediatamente la spada Cioè conviene prendere Prima la spada Ok Poi Compro le due chiavi E cerco Di andare Verso di qua Anche se comunque ragazzi È pericoloso Perché non ho armi E qui a questa casa Qualcuno ci viene sempre No Stavolta no Sempre il samurai Mi fa prendere L'infarto Attenzione Ok Va bene Almeno una Almeno una ce l'abbiamo Almeno una ce l'abbiamo Quindi va bene così Ci scegliamo Questa volta Non baro in alcun modo Proprio Non faccio nulla Proprio le altre armi Non le prendo proprio Neanche per startare il game Neanche per provare A semplificarmi la vita All'inizio Ok Ci andiamo a prendere Le chiavi Eh sì Che stava Stava a scappare Stava scappando Stava Poverino Che gli ho fatto Io sto pure a comprare le chiavi Gli sto a fare un favore Gli sto creando economia No regà Mi sa c'è qualcuno lì Sapete No Qualcuno qua Ci sta No 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 Però regà Non so quanto mi convenga Eh però Mi sa che mi ha visto Mi sa che mi ha visto Allora Fermi tu Non lo pusho Cerco subito L'arma esotica Qui Perfetto 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 Va bene Va bene Finalmente una mitraglietta Eh lo sapevo Io tanto mi pushavi No però me ne vado Aspettate Aspettate perché Non ero troppo tranquillo In un fight così Dopo Dopo che Dopo che Dopo che mi aveva sparato Per primo Lui tra l'altro Non era neanche quello Che avevo vittato io Non era lui Era un altro ancora Ah fermi tutti Perché è rimasto qua Mi sembra Mi sembra Che sia rimasto Qui nei dintorni Sapete Comunque regà Quell'NPC Vi può tornare utile Anche quando per esempio Fate le vostre partite normali Cioè voi sapete Che lì c'è un NPC Che vi vende le chiavi Che c'ha le catane vicino Quindi avete il movement E ve ne andate in giro Per le holo chest Per vedere un attimino Se trovate delle armi Io ce l'ho un'altra chiave Però Perché non ho Scusate che ho comprato Solo due chiavi No fermi 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 Mi vado a prendere anche la quinta No 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 Mi prendo anche la quinta Ragà perché poi è troppo difficile Trovarne due di chiavi Ragà me so sbagliato E poi perché così Almeno abbiamo sotto controllo Le altre Le holo chest Allora Il perk Ma diciamo finale dignitosa Anche se in realtà La spada non la dovrei utilizzare Per attaccare Però io nel dubbio Me lo prendo Questo è un top loot Comunque Assalto e mitraglietta Nelle no build È il mio top loot Il pump Sì lo utilizzo E lo utilizzerei Giusto oggi Perché è la challenge Però Io mi trovo benissimo Così in no build Ah no Qua regà Non c'è proprio L'arma esotica Vabbè A parte non la potevo comprare Però io comunque Nel dubbio Sto controllando Dove venire poi A comprare Un'ipotetica Terza arma esotica Ah Neanche qua regà Neanche qua L'arma esotica Ma ve l'ho detto In realtà Siamo stati molto fortunati Fino ad ora Siamo stati molto Molto fortunati Fino ad ora A trovare comunque Quasi sempre uno Due armi esotiche Sono le partite Che poi però Purtroppo sono state Un po' sfigate Dobbiamo ammettere Regà Mastro di chiavi Oh mio dio Troppo contento Troppo contento Troppo contento Regà Non ci posso credere Cioè così mi fai Emozionare però Fortnite Cioè così mi fai Veramente emozionare Mi sento male eh Cioè mi sento male No vabbè Forse mi tengo la katana Dai Mi tengo la katana Regà mi sento malissimo Cioè però Ho trovato anche Le due armi esotiche Cioè Incredibile Un sciogno Veramente un sciogno Ma guardate un po' Io adesso utilizzo Anche le cure Che prendo Dalle holo chest Cioè anche le cure Dalle holo chest Ragazzi Cioè ma di che stiamo parlando Questo deve essere il video Solo holo chest challenge Cosa che in realtà Ho già fatto Durante le scorse stagioni Chiaramente Tra l'altro ragazzi Io sto continuando A lutare Quindi sto continuando Ad andare in giro Senza camperare Senza stare fermo Insomma Ma non ho beccato Un avversario Oh my god Finalmente Ok Con calma Con molta calma Comunque St'assalto è veramente forte Il problema è la mia mira Se si è avuto una mira Un po' migliore Avrei avuto Veramente La possibilità Di vincerla Sta partita Tra ste due mitragliette Sta assalto Qualcuno che plana Attenzione Dove sta planando Scusate Dov'è Ah Ma mi ha visto Secondo voi No Non mi ha visto Se ne sta andando Ah C'ha la katana Con acrobata aereo Quindi quello usa la katana E vola Beato te Ok regà Riplanano te qua Ho visto qualcuno Camminare qua sopra Cosa sta succedendo Perché mi segnava Una doppia zip Ragà me la segnava doppia La zip però Perché Non me la racconta giusta Sta situazione Cioè Sono in due O è da solo Soprattutto Ma è rimasto dietro Quell'albero Oppure Se sono domande Esistenziali Ah eccolo No 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 Si sta muovendo Ah proviamo A seguirlo Piano piano Perché se a un certo punto Si ferma Ragazzi con questo assalto Gli facciamo un male Che se lo ricorda Boh per Due settimane Ecco Non così Non prendete esempio da me Ecco vabbè col P90 Però già un po' meglio Amico mio No Eh quello Ma me lo ruba O finisco io Nel panino No Allora Non scendo Non scendo Non scendo Anzi Me ne vado Me ne vado Allora Ora torno No Ho switchato Non mi aveva switchato Arma Ok C'è qualcuno Che ci sta sparando Da lontano Con calma Con calma Con molta calma C'ha le chiavi Quindi voglio prendere Le chiavi Ma poi me ne vado Perfetto Come mi ha hitato Non ero coperto Non ero coperto Evidentemente Va bene Altre chiavi qui No ce ne aveva tre Quest'altro Perfetto Raga io Me ne vado E nel dubbio Pure per 11 di shield Sto shieldone Me lo faccio Raga qua ci stanno Altre olo cesta Cioè vi giuro La voglia E la tentazione Di prenderne un'altra Di arma È troppo alta Vediamo Ah no Non c'era E non c'era neanche Prima che arrivassi Però Altre olo cesta di qua Non credo sia una zona Che l'abbia già controllato In sta partita O forse è il castello Dove ero già venuto No Questo no Questo è il castello Vicino alla cittadella Impossibile Adesso ho venuto qua Uh 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 Ah Eh no raga Cioè per forza Cioè che fai Cioè che non lo sto a fare Secondo voi E che non lo sto a fare Ma io mi tolgo Sì ma tranquillamente Mi tolgo la spada Ragazzi Cioè ma per chi mi avete preso Ma assolutamente Faccio una cosa del genere Cioè io per vincere questa partita Avrei dovuto fare tutt'altro Eh cioè Sia Sia chiaro Avrei dovuto tenere Bolle scudo Avrei dovuto tenere La spada Con due armi esotiche Via Ma siamo qui per fare Il video sulle armi esotiche Mannaggia la miseria Eh raga Qualcuno Che plana qua Ma non ho capito Se Eccolo E questo mi vuole pushare Madonna mia Non credo che mi voglia più pushare Non credo mi voglia più pushare Mannaggia la miseria È scappato Non c'ho parole Raga con quattro Eh vabbè Me l'hanno rubatissimo No 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 Raga con quattro armi Nell'inventario Mi sono impicciato troppo A switchare tra un'arma e l'altra Mannaggia la miseria Che kill Che mi hanno rubato Attenzione Perché c'è Quello che l'ha ucciso Stava tipo lì Quello che l'ha ucciso Stava tipo lì E non è andato a lutarlo O si No Non è andato a lutarlo Quindi qualcuno Sta camperando lì O nei cespugli O dietro Quella collinetta Mannaggia ragazzi Questa era una easy kill A quel punto Mi sono impicciato troppo A switchare le armi Regà Ce ne ho troppe E ormai mi conviene Rimane un po' Qua coperto Da queste strutture Eh siamo in safe Certo è che Chi sta là sopra Poi è tanto avvantaggiato Rispetto a me Però vabbè Regà qualcuno ha usato La spada di qua Ma anche adesso Alle mie spalle Ho visto qualcuno Quindi Devo stare molto attento Se non voglio finire In uno dei miei soliti panini Soprattutto ora che Non ho più la spada O bolle scudo Per proteggermi E sono No regà Non ci credo Non ci credo Dov'è? Regà Cioè io Vi giuro Io con questo pump Faccio schifo Non lo so perché Oggi ce sto a prendere Così tanto Ma ve lo giuro Ve lo giuro Su quello che volete Ma che vuole fare? Vabbè Io lo lascio stare Qualcuno Oh mio dio Qualcuno è in plana Anche qua Però questo dovrebbe Essere messo male Ok Let's go Let's go Perfetto Però occhio Perché adesso Quello che Lo stava tenendo Sotto scacco Ok Ok Oh 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 Non fa scherzi eh Non fa scherzi Vai giù Cioè non moriva Non facciamo scherzi No no regà La cam Non ci credo Non ci può Non ci credo ragazzi La cam Ero troppo concentrato In game Non l'ho vista Vi giuro che se Perdo sto gameplay Eh vabbè La webcam Che non si mette dritta Ragazzi Va bene così Va bene così Va bene così No passi 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 No Non ci Guarda eh Guardate Io non sento l'audio E non lo sentite nemmeno voi Lo so Ora si Guardate eh Io lo sapevo che tanto Lo devo buttare così Sto gameplay Mamma mia regà Vi giuro sto rosicando un botto Non so se questo qui sa Che io sto qua sotto Però non credo a questo punto Non credo Mi provo Eh no Non posso andare più qua regà Vabbè Comunque Mi vedete Quello è l'importante Non so da quanto Era down La fotocamera Ma l'importante è che Adesso mi vedete Questo sta sparando A quell'altro Però Eh vabbè regà Ho fatto rumore Ho preso i materiali Ho preso le munizioni Ma sta sparando lì? Uh sì Perché sta lì Ecco Noi ci dobbiamo muovere Io e questo qui Vai giù Regà non ci credo Non ci credo Che partita Che cosa Cioè che cosa abbiamo fatto Ragazzi Che cosa abbiamo fatto Con vittoria della corona Ok Non è il massimo L'ho un po' raddrizzata Ma tanto Era giusto per fare l'outro Io Ragazzi Non ho parole Mi tolgo le cuffie Abbiamo vinto Con 4 armi esotiche Nell'inventario E una cura bomba Perché ero rimasto Con una cura bomba Vabbè Queste armi esotiche Sono rotte Regà Cioè sono veramente rotte Quindi utilizzate In un certo modo Sono particolarmente Buone no? Però comunque Non giocare con la spada Stare senza barretto Bolla scudo Comunque no build Si fa sentire Ma noi ce la siamo portata a casa Madonna quante kill Abbiamo fatto in endgame Tra l'altro Abbiamo killati tutti noi E ce ne hanno pure rubato Un paio eh Detto questo ragazzi Mi raccomando Vi ricordo Codice creatore GGY Antitutto Grande tutto Attaccato Nel negozio oggetti Di fortnite Fondamentale Per supportarmi Iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Lasciando un bel mi piace Vi ricordo Andarvi a recuperare Tutti i video Che stiamo facendo Su questa nuova stagione Perché sta uscendo Una marea di roba E uscirà una marea di roba Quindi controllate Sempre il canale Per me è tutto Ci ritroviamo domani Con un prossimo video Qui sul mio canale Oppure prossimamente In questa giornata Ciao ragazzuoli